Cristiano Delgrosso, c'è la Reggiana, è una partita sulla carta difficilissima insieme con il Modena, la squadra che sta dominando il campionato, però è una partita piena di fascino, bella, che tutti vorrebbero giocare. Che gara ti aspetti? Beh, hai detto tutto tu. Una gara importante per noi, ma anche per la Reggiana. Credo che in questo girone di ritorno si debba sbagliare il meno possibile, perché sento dire tutti no, noi possiamo anche avere le possibilità di arrivare il più vicino possibile alla vetta. Non mi sto a soffermare terzo, quarto, quinto. Noi se battiamo gli scontri diretti possiamo fare qualcosa di importante. Inizia già da lunedì, è una squadra forte, noi siamo in salute, quindi rispetto per tutti, ma paura di nessuno assolutamente. Si va a Reggio con la convinzione di far bene. Con una Reggiana che, dopo il pareggio con la Gararesa e la vittoria del Modena nel posticipo con il Cesena, per la prima volta è seconda in classifica, mancheranno due capisaldi dell'undici di casa, ovvero Rozzio e Rossi. Cigarini, punto interrogativo, probabilmente è l'occasione giusta? Sì, dicevo prima, il Modena e la Reggiana sono squadre forti, non ci nascondiamo, sicuramente le più forti. Però il calcio a volte insegna che non sempre la squadra più forte è quella che vince. Il Pescara, noi abbiamo passato un periodo di difficoltà, però abbiamo lavorato per migliorarci e adesso dobbiamo continuare su questa strada, fare ancora meglio. I leggeri periodi di flessioni possono capitare a tutti, quindi andare a sfruttare uno scontro diretto ogni volta che ti capita e riuscirlo a portare a casa è qualcosa di importante. Grazie a tutti.